benvenuti a in e grita su le onde fine che fatevi ringraziare questo operatore meraviglioso che ho rubato che è così perché quando quando si è rock and roll tutto 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 funziona bene in e grita siamo ancora qui in quella canzone secondo me c'è come dire il manifesto non solamente di un disco ma anche di una rock band che personalmente mi racconto ormai da da parecchio basi è la prima traccia siamo ancora qua abbiamo voluto in qualche modo reciclare un concetto antico noi nel 94 primo disco abbiamo fatto un pezzo quello che chiudeva l'album mi sembra che si chiamava e negrita che era una sorta di brano manifesto molto in voga in quel periodo abbiamo già citato altre volte in altre interviste esistevano un po di band in quegli anni che facevano pezzi manifesto e magari nel primo album in mano negra gli fff altri bene così dopo nove album quindi al decimo abbiamo pensato bene dato che eravamo un po meri bondi prima di iniziare questo questo disco a livello grazie a tutti 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 grazie a tutti